La bellezza salverà il mondo, afferma il principe Mishkin nell'idiota del grande scrittore russo Fedor Dostoievski. Una massima che Antonio Presti, curatore e fondatore di Fiumara d'Arte, si è imposto come stile di vita. Fare conoscere la Sicilia attraverso la cultura, l'arte e la musica, come nell'ultimo video di Mahmoud Klan, girato proprio tra le opere di Fiumara d'Arte. Io ho la mia politica della bellezza, anche qui con la P maiuscola, nel mio territorio, nella Valle dell'Alesa, a volte in solitudine, a volte anche in contrapposizione con il più grande nemico che la cultura può incontrare, che si chiama ignoranza. Ma quando l'ignoranza è oppositiva per tutta la vita e alla fine la bellezza vince, ecco bisogna ringraziare quell'ignoranza perché oggi nella Valle dell'Alesa io non ho abbandonato il territorio. Io sono rimasto fino ad oggi per rigenerare, per innestare, per affermare anche come la cultura non solo restituisce un'identità a un territorio. E tutti i paesi della Fiumara d'Arte, della Valle dell'Alesa, grazie a questo grande impegno, oggi hanno un'identità internazionale. E anche il video di Mahmood, un grande artista, a volte che siamo amici, ha restituito una visione e anche un rispetto internazionale. Quindi questa è la risposta che gli amministratori di tutta l'Italia e anche tutta la Sicilia dovrebbero comprendere, che forse sarebbe tempo di investire più in cultura e meno nelle sagre. Quello che mi preoccupa di più in questo momento non è più l'ignoranza, l'indifferenza, l'ostracismo, questo è la banalità del male. Alla banalità del male bisogna neanche considerarlo, quando una cosa è banale non neanche si considera, il male è banale. E quando la Fiumara guarda al futuro, ecco deve guardare al futuro anche con quegli occhi di protezione. Mi farebbe piacere pensare adesso soprattutto come devo custodire questi miei figli, perché la vita è un comodato d'uso. E quindi nel comodato d'uso il tempo si chiama attimo. E quindi mi farebbe piacere in qualunque attimo poter pensare che questi figli siano protetti, custoditi e amati, come ha fatto il padre per tanti anni.